Approvato dal Consiglio regionale il nuovo piano socio-sanitario 2019-2023. Ma soprattutto ricordiamo che una volta in passato fare un piano socio-sanitario voleva dire anni di attesa di lavoro. Noi abbiamo fatto penso in due giorni di Consiglio regionale perché abbiamo fatto un bel lavoro prima. E questo è un altro merito che va a questa maggioranza che ancora una volta fa la riforma della sanità, la fa in maniera veloce, importante guardando al futuro, una sanità che cambia, dove il Veneto vuole restare il leader a livello nazionale e tra i primi a livello internazionale con la sua sanità. Attenzione dalla regione anche ai numeri del personale. Beh sì, una risposta sui numeri, visto considerato che dobbiamo aumentare le dotazioni organiche, dobbiamo continuare a crescere con la professionalità, in un mondo nel quale, bene ricordare ai cittadini, mancano medici. Mancano medici anche perché si calcola che di questo passo tra qualche anno mancheranno 56.000 medici in Italia. Ed è scandaloso pensare che i nostri ragazzi vengono selezionati con dei test d'ingresso che sono ridicoli. Se io devo scegliere un grande chirurgo, a 18 anni non posso immaginare di sceglierlo con un test, ma devo vederlo operare in sala operatoria. Quindi le selezioni si fanno all'università e non ai test d'ingresso all'università. Nei mesi scorsi si è parlato spesso di tagli, ma non ce ne sono stati nel nuovo piano. Assolutamente no, guardi, la sanità del Veneto che eroga 80 milioni di prestazioni sanitarie all'anno, 2 milioni di accessi a pronto soccorso, 68 ospedali e 54.000 dipendenti, ha un budget di 9.360 milioni di euro all'anno. Continuiamo su questa direzione, ovviamente è una sanità che cambia pelle. È la sanità digitale, è la sanità della telemedicina, è la sanità della deospedalizzazione, e la sanità delle grandi reti oncologiche, delle grandi reti di prevenzione, cosa che qualche anno fa non esisteva.